Kodoku 50 euro ma sei impazzito vogliamo una bella vittoria reale no già sai dobbiamo fare la win per forza questa partita va vinta ragazzi dopo una donazione di 70 euro di quella donazione di 50 euro che ho scritto ci vuole di fare la vittoria reale e ora raga perché acquistare da gucci o d'alti brand di lusso quando ormai sapete benissimo che è arrivato online il nuovo merchandising di croatomist stiamo parlando della seconda edizione con una nuovissima colorazione e un nuovissimo design vi lascio il link in descrizione e vi ricordo di taggarmi su instagram non appena riceverete i prodotti così che potrò condividere tutte le vostre stories adesso è arrivato però il momento di flexare con stile link in descrizione ho andato male ho andato malissimo devo andare giù mi dispiace è andato male abbandonato vabbè si sembrava dei libatti tutti allora pensiamo forti usciamo quel bambinello mi faccio lo scildone arrivo ok va benissimo arriva uno dal cesso da te no sono io no 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 c'era uno lo ritato vabbè si è andato via aspetta che faccio una nade tattica perché non sbaglia mai anche se sono in un non mi ha sparato il pompo c'è mia lettera metto c'è chat mi ha tolto il bot più di 70 di vita guarda me arrivo arrivo un secondo ci riesce a fare un secondo coverata 34 blu ma c'è altra gente no? si si c'è altra gente morto ah questo è quello con il lancerade no sono io ah è che il pompa? buono 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 ma c'è qualcuno che mi sta si dalla mano no Gio non puoi pusharli così però code mi ha forgiato morto subito vedi questo bot qua sul tetto? ti giuro no 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 guardami lui qui? ok io ero qua mi ha fatto 75 di shield mi ha tolto da 80 metri mi ha distrutto cioè io veramente guarda 10 euro codoku mi dedico una bellissima kill please? una bellissima kill? allora guarda ti dedico una kill in volo e one tap uno quando scendo va bene? non ti assicuro di riuscire a farlo nell'immediato perché ho pochi razzi però questa è la kill che voglio c'è uno qua c'è uno qua martì vola ok ok lo faccio one tapato questo è per te codoku grazie mille per la donazione un bacione sempre per il supporto che mi dai ogni giorno grazie grazie mille codoku il primo one tap era per te questo è per il tg ma basta codoku impazzito non ci credo no stavo picconando le splash e è esploso qualcosa non so cosa eh le taniche della benzina esplodono da sempre cioè aspetta le taniche della benzina le taniche? eh sia quelle grandi che quelle piccoline no quelle grandi stanno là eh quelle per rifornire cioè quelle piccoline se tu le metti a te infatti voglio fare una cosa figa ecco lì wuuhuuu kawaiii no por no 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 scherzavo mamma mia la r bianco è buggatissimo io non ho mace di due io c'ho quattro persone da me ti ho craccati tutti ti ho sicuro morti ch'altro gen hai shield? no quelli venipa con dopo 50 euro ma sei impazzito vogliamo una bella vittoria reale no già sai dobbiamo fare la win per forza mi fa danno addosso c'è uno qua sotto morto non ho scudi io morto ma ti giuro io non sto trovando nessuno scegli per terra l'altro non mi servo e fatelo tu guarda qui guarda qui non vieni qua vado a lanciare a zi se non si bilzano l'hitto dopo hitto vorrei tarlo è veramente morto per rimanere l'hitto morto la r bianca e o p mamma mia solo per dire perché la macchina non la vedo nella mappa comenta di essere su cod è lì eh ma quello lì conviene a pusharlo subito perché mi sembra abbastanza 3hardy no hs lo push morto gli spot un amico l'hai visto davvero? vado a pushare l'amico ah era one hit questo si era one hit che gli ho fatto il colpo di oggi ma pure con l'altro si pure con l'altro gli ultimi sono a 165 165 ma quelli da camperati? mi sa di si perché mi è arrivata una sniperata questa partita l'ha vinta ragazzi dopo una donazione di 70 euro di cui la donazione di 50 euro che ho scritto ci vuole fare la vittoria reale e ora raga ora per forza è un must allora c'è un problema però con questi qua dimmi che sono così tanto camperati che non è facile però se vuoi a me servono le banche lì andiamo ora che sono giù andiamo ora che sono giù vieni vieni andiamo non possono laserarci non possono laserarci perfetto sono 3 yarder questi te lo dico qui c'è un altro pad io ne ho ancora 30.000 bianco morto morto ok questo per la donazione di 70 euro questa partita della dedico a Kodoku ragazzi che ha donato 70 euro questo è per te Kodoku grazie mille grazie mille per la donazione di 70 euro e per il supporto grazie mille Kodoku un bacione primo game prima win quante bombe? 14 po' la sombrice grazie mille Kodoku davvero grazie mille grazie mille andiamo let's go